L'iniziativa vede coinvolte tre realtà, la Team2B che gestisce i mezzi di trasporto, la parte logistica, le farmacie locali che hanno aderito al progetto, presso le quali è possibile sia prenotare che pagare il tampone ed infine l'ATS alla quale verranno trasmessi tutti i dati una volta ricevuto l'esito. Abbiamo in questo momento già sei camper in giro per l'Italia, ogni giorno è un progetto itinerante, ogni giorno è una tappa diversa in collaborazione con le farmacie e la possibilità di fare il tampone rapido, sono i tamponi antigenici con il risultato dopo 15 minuti solamente. Tutta la procedura viene effettuata all'esterno perché per sicurezza, per evitare i contagi, per rimanere nell'aria aperta, sono aree separate. Ad oggi e quindi in una settimana quanti tamponi siete riusciti a effettuare? Sicuramente siamo su una media di 50 al giorno. Il costo e come si può pagare? 35 euro si paga o in farmacia o sul sito. Nel caso il tampone risultasse positivo? C'è una procedura anche per il positivo, la dottoressa informa il paziente, a questo punto diventa paziente, quali sono le attività da fare, cioè porsi in quarantena, stare isolato, andare alle ATS per il tampone molecolare oppure ai drive-in, ci sono varie possibilità ma va verificato poi anche col tampone molecolare. Viene comunicato a qualcuno questo dato? Certo, poi dopo c'è tutta una procedura di comunicazione all'ATS, immediatamente viene mandata la comunicazione all'ATS che provvederà poi dopo a ricontattarlo per appunto il successivo tampone. Ogni unità ha almeno tre addetti, reception, controllo sicurezza e gestione del camper e la parte medica. La prossima tappa prevista a Cremona sarà il 10 marzo, sempre di fronte alla parrocchia Cristo Re.